Prende il via oggi a Spoleto il Festival dei Due Mondi è il primo di questi 17 giorni di grandi nomi e grandi spettacoli opera, musica, danza, teatro, tante mostre, tanti incontri, anche tante iniziative collaterali già turisti appassionati hanno iniziato ad arrivare in città per l'occasione allora Lorenzo Materazzini è andato a vedere 59 volte Festival dei Due Mondi ma l'entusiasmo è quello della prima volta è una pacata frenesia quella che si percepisce lungo le vie di Spoleto mentre fervono gli ultimi preparativi prima che si alzi il sipario l'atmosfera sembra quella di un giorno qualunque tanto è stretto il connubio tra la città e il suo festival che spettacolo va a vedere? beh qualche spettacolo, vado a vedere l'opera Il Figaro poi vado a battere un altro nuovo magari sembra che stasse questo festival tutto l'anno è una cosa bella per la città? è una cosa bellissima non è solo il festival Spoleto secondo me però insomma il festival è un veicolo trainante per tutte le altre manifestazioni che vengono a Spoleto domani inizia il festival dei Due Mondi quindi sarà un delirio di persone voi lo sapevate? no, non lo sapevamo se no poi in mente ci organizzavamo per venire 17 giorni di grandi spettacoli con 50 titoli oltre 150 eventi complessivi tra spettacoli di opera, musica, danza, teatro e mostre d'arte tutto questo sotto la direzione del maestro Giorgio Ferrara al timone della manifestazione dal 2007 questo festival che è nato con i Due Mondi giustamente all'epoca perché era l'Italia e gli Stati Uniti si aprisse al mondo globale e quindi a tutte le esperienze più diverse possibili che vengono da tutto il mondo una città che cresce insieme al suo festival non è un caso infatti che proprio in coincidenza con l'inizio della Kermess sarà inaugurato l'ultimo tratto del complesso sistema di mobilità alternativa che permette l'accesso diretto al teatro nuovo gli spoletini ci credono ci hanno sempre creduto soprattutto sono stati intelligenti nei momenti in cui il festival ha avuto qualche flessione nel prendere le decisioni giuste e adesso si vedono i risultati vocazione del festival da sempre è quella di fare incontrare mondi diversi dagli spettacoli che rappresentano culture e popoli lontani a quelli che fondono spettacolo e informazione Tissen, Opera Sonora e Utoia sono solo due esempi ma sono da segnalare anche gli incontri intervista curati da Paolo Mieli e sarà la suggestiva cornice di Palazzo Bufalini ad ospitare le opere del più grande esponente del neoclassicismo italiano Antonio Canova Grazie e Bellezza è il titolo della mostra più attesa della manifestazione In Canova il disegno è l'invenzione cioè è la prima idea che Canova mette su carta soprattutto nei disegni piccoli perché i disegni più grandi sono disegni di accademia 31 opere tra disegni monocromi, gessi ed incisioni ma anche una selezione di lettere che testimoniano la stretta rapporto fra l'artista Veneto e l'Umbria due mondi che si incontrano e siamo agli appuntamenti previsti